buon pomeriggio buon pomeriggio su da tutti prontissimi per entrare nelle vostre case per partire insieme con un nuovo ciclo di appuntamenti del nostro format in onda da lunedì al venerdì a partire da quest'ora 16 15 puntuali devo dire settimana settimana santa settimana di buoni principi in cui ci si confronta con se stessi in cui ci si confronta con gli altri quindi parleremo ampiamente della famosa settimana santa nella nostra regione e non solo restate qui perché tra poco avremo dei contributi da mostrarvi ma apriamo il primo blocco della puntata di oggi con uno dei personaggi più amati nella panorama nazionale internazionale della moda nel campo della moda sto parlando di alviero martini restate qui c'è la sigla e faremo un'intervista molto bella con lui buon pomeriggio buon pomeriggio sud a tutti carissimi amici telespettatori tra poco arriva anche il nostro contatto mail intanto ve lo ricordo il nostro contatto mail pomeriggio sud chiocciola antennasud.com potete interagire come sempre h24 con noi vi potete scaricare l'app per seguire tutti i nostri contenuti e visitare puntualmente il nostro sito internet antennasud.com cominciamo con uno dei personaggi più amati nel campo della moda lo stilista alviero martini apritevi il collegamento buon pomeriggio alviero buon pomeriggio a voi come state tutto bene grazie bene sono contento di vederti sorridente anche perché insomma vivi nella nella positività chi ti conosce un po sa che hai nei confronti della vita un certo atteggiamento che poi riesce a valorizzare rispetto alle cose costruttive che tu fai no beh è fondamentale se lo diceva anche chaplin un giorno senza un sorriso un giorno sprecato quindi si parte dal mattino anche se a volte i motivi non sono proprio così incoraggianti per un sorriso però per esempio io ho la fortuna di avere una una colf sogna con la quale collaboro da 25 anni che è una dinamite per cui come mi vede al mattino buongiorno signor martini e mi dà la giusta carica anche se magari io stavo uscendo dalla camera con dei pensieri un po così e invece mi riporta subito la realtà però devo dire che anche di mio anche quando non c'è lei poi mi rimetto subito in carreggiata perché fondamentale perché è la linfa vitale questa verissimo è verissimo parliamo un po della tua carriera ricca di grandi soddisfazioni zeppa di applausi di grande stima da un pubblico che se vogliamo anche un po sofisticato e partendo dal passato tu hai frequentato l'istituto d'arte ragazzino a 14 anni si è entrato in una sartoria dove imparato a cucire a tagliare quest'indole artistica però si propaga in diversi settori e c'è quello della grafica c'è quello del teatro c'è quello della moda a proposito di teatro tra le altre cose a 26 anni tu hai debuttato come attore con vittorio gasman esatto esatto però devo dirti che vogliamo fare qualche passo indietro sì perché io sono nato a cuneo in nelle campagne cuneesi da una famiglia di contadini e mio padre ovviamente essendo l'unico figlio maschio che aveva in quel momento era ero io e voleva assolutamente che suo figlio seguisse le sue orme quindi caldeggiava non solo fortemente ma anche severamente il fatto che io dovessi fare il contadino mio padre non aveva una mandria di 2000 mucche ne aveva sei per cui mi mandava al pascolo io uscivo andava al passo prendendo un libro per leggere lui mi prendeva il libro lo buttava sul fienile io tornavo a prendere il libro perché con sei mucche non c'era molto da fare e poi abbiamo negoziato per anni questo patteggiato questo lui mi chiamava pelandrone e perché perché io non avevo voglia di guardare i campi e soprattutto mi chiedevano tutti cosa avrei fatto da grande io dicevo sempre che avrei fatto il pilota l'astronauta il viaggiatore l'attore lo stilista insomma tutto ciò che era fuori dal campo fuori dal campo di mio padre e un giorno a otto anni una nostra zia c'è invita una zia di secondo grado alla cresima della figlia e questa zia mi dice a tu saresti il famoso albiero che mi dicono che sia anche po birichino dico già mi stava sul non molto simpatica e mi dice allora cosa farei da grande albiero dandomi un buffetto sulle guance io che avevo già otto anni e avevo già viaggiato da solo su un treno quindi mi sentivo già grande e quindi mi stava antipatica e le ho risposto non lo so dice come non lo sai tutti i bambini sanno cosa fanno da grande a sì lo so so che farò qualcosa di unico che non ha mai fatto nessuno e lei mi dice che presuntuoso e cosa sarebbe questo qualcosa di unico che non ha mai fatto nessuno io ho messo le braccia in concerto e ho detto beh se lo sapessi l'avrei già fatto no lei mi ha detto anche antipatico e se n'è andata però io sono rimasto lì in quell'angolo con questo mantra che mi che ho ripetuto per almeno 20 volte perché mi ero reso conto di aver detto una cosa molto impegnativa molto importante di aver lanciato all'universo un un sogno un desiderio e da lì è partito il mio diciamo delirio che poi non era un delirio ma era un gioco che era quello di fare qualunque cosa e scartare tutto ciò che non era unico fino a quando a un certo punto ho avuto anche io dei momenti di a parte il teatro che ho fatto la compagnia teatrale ho fatto cinema ho fatto facevo il costumista il vetrinista per mille cose e vetrinista lo facevi da piccolissimo il vetrinista sì 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 ho fatto il liceo artistico e mi sono diplomato vetrinista e andavo in giro per l'europa a londra a parigi e a madrid entrando nei negozi dicendo volete una vetrina qualcuno diceva no gratis gratis e qualcuno mi diceva sì qualcuno diceva no quelle che facevo le fotografavo e quando tornavo in provincia ovviamente le mie quotazioni salivano perché avevo fatto le vetrine nel mondo quindi ero intraprendente ero curioso parlavo sempre con le persone più grandi mi ricordo che a londra avevo incontrato le nipote di oscar wilde che mi avevano addirittura invitato a buckingham palace a vent'anni io in silenzio ero ovviamente lontano dalla regina da tutto però però ci stavo perché perché loro avevano visto in me quel ragazzo che voleva fare qualcosa insomma ho avuto dei momenti anche di non dico scoraggiamento ma mi diceva ma forse ho puntato troppo in alto e quindi questa cosa ecco poi come hai fatto a superarli ma mano che vi si presentavano no in ogni vita si presentano problemi che si presentavano io facevo io facevo eseguivo tutto qualcuno mi pagava qualcuno non mi pagava l'importante per me era fare esperienza e poi è un bel giorno mi trovavo facevo il designer e curavo il salone del mobile di milano con i vari allestimenti piuttosto che un negozio di arredamenti a roma avevo fatto per uno cicco arabo diverse ville in oman piuttosto che in arabia saudita e un giorno mi trovo a san pietroburgo per una visita e poi vado a mosca mosche incontro i miei amici brasiliani dell'ambasciata del brasile e facciamo una festa e lì mi dicono guarda che vorremmo farti vedere l'ambasciata ma è in cattive condizioni perché andata a fuoco negli anni 50 da allora non siamo mai riusciti ad avere un qualcuno che ci ce la rimette in sesto e dico ma il mio lavoro dice sì figurati voi italiani non riusciamo a farlo qui con la danimarca con la finlandia con la svezia figurati in italia e io l'ho presa come sfida sono tornato a roma dove abitavo e dirigevo questo negozio di arredamenti e in una settimana ho preparato cinque tavole a b c d e con i preventivi con i tessuti con i materiali eccetera eccetera e ognuno aveva appunto un suo preventivo li ho mandati su l'ambasciatore non credeva i suoi occhi insomma hanno stanziato una prima parte di un buon fondo di erano 500 milioni di lire e abbiamo rifatto tutto il primo piano che era il ricevimento quindi il 4 luglio questo era a gennaio quando a febbraio quando ero su e il 4 luglio ero già su a montare la prima parte del lavoro poi e avevi quanti anni avevo 20 sempre molto giovane 20 anni 20 anni ecco che avevi una spiccata capacità sì beh insomma ero abbastanza intraprendente dopodiché avevo anche l'umiltà di imparare dagli altri guardavo osservato per esempio ho fatto tantissime pubblicità come come attore e andavo sul set mi convocavano alle sette io andavo alle sei perché volevo vedere come si montavano le scene con le luci eccetera eccetera e devo dire che tutto è stato utile e insomma poi lì a mosca hanno deciso di investire altri soldi per ristrutturare tutta l'ambasciata compreso quel piano che era andato a fuoco due anni di lavoro e nel frattempo sono passati alcuni anni sono arrivato ad avere 30 35 36 anni e avevo questo ancora questo obiettivo in mente qualcosa di unico che non ha mai fatto nessuno tutto quello che facevo era già stato fatto entro in un negozio a mosca l'ultimo giorno per portare dei regali e degli amici e lì ho visto su una parete una carta geografica che mi ha folgorato non aveva assolutamente niente di più delle cose sbiadite dal tempo e quindi il fascino delle cose usate l'ho presa con difficoltà l'ho voluto quella loro mi vogliono dare quella nuova quando sono tornato a roma mi sono ho aperto l'armadio per mettere a posto le cose e ho sono inciampato in una valigia cinese che da una valigia cinese è partita la strada per il tuo brand praticamente è lì è partita la sapere che ho fatto ho incollato quella carta sopra la la valigia l'ho messo in una vetrina a roma perché faccio la vetrinista e dal negozio mi hanno chiamato per dire che la gente entrava solo per chiedere la valigia e allora a questo punto ho iniziato il processo di produrre tessuto e ho fatto fare poi investendo altri soldi vendendo la macchina ho fatto fare un 100 metri di tessuto con il quale ho fatto 16 tra borse valigie e piccoli portafogli e poi ho avuto un grande successo in italia nel mondo le tue borse la tua linea prima cassa davvero gli amici di che l'hanno visto mi hanno detto bello io voglio questo io voglio quell'altro però è arrivato un amico speciale che era sergio valente che era un grande parrucchiere di roma che aveva il negozio sia a roma che a new york e mi dice meravigliosa ma non presentarla alla stampa italiana perché non sei nessuno e avrai mille difficoltà per farti credere. E poi che cosa hai fatto? Dobbiamo andare in america abbiamo preso l'appuntamento al mark hotel di new york e abbiamo fatto questo viaggio in america con la mia amica Susanna che era di madre di lingua inglese perché l'inglese non era ancora fluente e sono venute tutte dal new york times al voggar per sbattare tutti i principali giornali più famosi più giornali ma soprattutto è arrivata una signora di blumindles che era la compratrice di blumindles per il reparto belletteria che mi piazza un ordine di 3000 borse poi ritorno in italia e trovo sotto casa un giapponese perché aveva letto il new york times e mi disse vorrei vedere la collezione e gli ho fatto vedere la collezione e mi ha piazzato un ordine di 7000 borse in più un contratto di sette anni di distribuzione attraverso da lì è davvero si è riuscito a creare un mondo mondo di cose tra l'altro a proposito di viaggi dicevi scusami è partito il tutto tranne che in italia perché in italia appunto ci voleva in italia si sa si vive ancora di clientelismo di conoscenza o di rendite diciamo così per su alcuni settori alcuni luoghi in particolare intanto stiamo vedendo nella galleria fotografica quelle che sono le tue le tue creazioni poi nasce andare lontano viaggiando che è il tuo libro di qualche anno fa questo marchio l'ho venduto nel 2005 e da allora porta avanti un altro marchio che si chiama appunto al martini andare lontano viaggiando ma che vuol dire anche ecco questa è la copertina del libro che ho anch'io qui si sia la mia autobiografia e alla quarta edizione e nella quale racconto tutte le esperienze di vita che è fondamentale per i giovani che si vogliono approcciare al mondo del lavoro capire che oggi c'è spazio per i giovani secondo te in questo settore quello della moda c'è spazio in ogni settore purché ci sia la volontà di della conoscenza della cultura dell'umiltà e soprattutto la determinazione perché io ho puntato il mio obiettivo molto in alto e ho perseguito quel sogno per tanti anni anche nei momenti in cui ero magari un pochino più scoraggiato però non ho mai perso di vista quello che volevo e non sapevo che fossero le carte geografiche e sono arrivate e quindi è la riprova che se uno insiste persiste col proprio sogno il sogno si realizza la cosa che molti degli spettatori non sapevano l'hai detta pochissimi istanti fa che poi il marchio principale lo hai ceduto sì adesso adesso viaggio con i timbri dei miei passaporti che sono il nuovo disegno dicevo che i giovani oggi sono molto demotivati perché sono motivati dalla televisione dei social ad avere successo immediato mentre invece la mia gavetta che è durata 30 anni esattamente perché da 8 anni a 38 anni sono uscito con la linea vuol dire che serve veramente lo studio la tenacia e soprattutto grande preparazione la preparazione la cultura e la conoscenza e io a quel punto avevo mi sono reso conto che tutte le gli allenamenti che avevo fatto in vari settori guarda caso erano tutti propedeutici alla olimpiade che stavo per attuare e devo dire che 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 l'ho vinta alla grande proprio perché perché ci vuole costanza perseveranza e soprattutto non temere mai le porte sbattute in faccia perché io avrò un momento di crescita anche quelle o soprattutto quelle di crescita mentre invece c'è molta gente molti giovani che si si disarmano alla seconda terza porta in faccia sbattuta alla prima porta in faccia va bene questa andrà bene un'altra cosa quindi io avevo cassetti pieni di disegni di sogni di progetti e poi è venuto fuori questo e poi ne ho fatti sono stati realizzati perché come dicevi come raccomando a tutti i giovani a monte c'era preparazione forte grande impegno e grandi sacrifici perché mi sembra di capire insomma tutto da solo ha creato un'industria su te stesso e sul personaggio e non è semplice non è proprio da tutti hanno pensato alle spalle ci fosse una famiglia ricca una famiglia di pellettieri tra l'altro ecco veniva una famiglia molto umile di pastori di l'umiltà è un'altra caratteristica che deve contraddistinguere chiunque perché prima di 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 lodarsi o di lodarsi certo e misurarsi con con il pubblico e io devo dire che ho avuto successo clamoroso che mi ha anche sorpreso e colpito e poi a quel punto ho capito che ci voleva un'altra qualità che era la tenuta di strada ovvero non farsi prendere dal dal successo ma restare quello che si è ricordarsi la fatica che si è fatto per arrivare a quel punto e portare avanti il tutto con esperienza andando avanti bisogna sempre dare uno sguardo al passato sempre assolutamente sempre altrimenti se guardiamo solo il futuro non sappiamo nulla del passato i ragazzi di oggi purtroppo non hanno voglia di studiare anzi anche nelle scuole è stata è stato tagliato diciamo il programma scolastico è stato un po modificato e quindi devo dire che non sono molto aiutati dalla scuola comunque è vero anche che se uno vuole da solo i mezzi a disposizione si può arrivare ovunque con la conoscenza un personaggio come te ed è molto importante che un personaggio popolare faccia beneficenza o comunque si si devolva per il sociale tu aiuti i bambini c'è proprio una fondazione un'associazione per i bambini dell'india si chiama care to action avevamo prima 5000 bambini adesso ne abbiamo ridotto perché effettivamente si sono ridotti anche i donatori per cui i ragazzi che sono usciti dal programma io avevo 25 figli adottati e di questi me ne è rimasto uno ancora in scuola gli altri sono tutti o sposati o comunque hanno un lavoro ed è proprio nell'india più povera nell'india del landra pradesh a vijayavada e dove io sono andato per vent'anni fino a quando modi il primo ministro ha tolto i visti ai volontari perché pensava che i volontari fossero dei suoi avversari portarsi dei soldi e i suoi avversari e quindi per due tre anni nessuno poteva più andare in india adesso abbiamo ripreso i viaggi in india abbiamo un villaggio proprio lì a vijayavada dove sono in custodia 2500 bambini che sono sponsorizzati da famiglie italiane e io ne ho ancora uno lì e presto questo vi fa onore ma tre tantissimi viaggi che hai fatto quello che ti è rimasto nel cuore e quello più vicino alla nostra cultura qual è allora devo dirti che è una domanda che mi fanno tutti e devo dire che io fino allo scorso anno rispondevo la turchia perché a 23 anni avevo preso la macchina ero partito e ho fatto per cinque anni consecutivi Istanbul come tappa e poi da Istanbul con la macchina si andava senza navigatore ovviamente senza nessun tipo di supporto tecnologico si andava in tutte le direzioni da Bursa a Mersin verso la Siria verso la Giordania e addirittura verso il Cars verso la Cina per cui l'ho visitata tutta ed è stato uno dei viaggi più belli della mia vita perché la Turchia è un paese meraviglioso poi l'anno scorso ho coronato il mio sogno che era fallito due volte tre volte per causa politiche che è stata l'isola di Pasqua che ho cercato di raggiungere negli anni di Pinochet per cui non si poteva andare poi una volta sono andato e un aereo si è perso nell'oceano e hanno pensato che i due aeroporti avessero perso le torri di controllo avessero perso il controllo e quindi non sono potuto partire l'anno successivo sono andato ed era l'anno del covid ci voleva un pass speciale perché l'isola era super protetta lo scorso anno il 2023 ce l'abbiamo fatto sono andato a Pasqua ed ho scoperto un viaggio più bello come te l'aspettavi vedi quindi era così allora non ne aspettavo era molto di più molto più bello ed è stata una cosa veramente sconvolgente perché vedere questi moai che abbiamo sempre visto in cartolina o in televisione vederteli lì davanti vivi un'esperienza un'emozione unica allora il nostro tempo a disposizione è scaduto comunque grazie per esserti dedicato a questa intervista qui in diretta con noi a pomeriggio sud davvero grazie albiero martini grazie a voi e quando volete sono qui assolutamente ci rivediamo quanto prima pochi istanti di pubblicità carissimi amici telespettatori perché protagonista ve l'ho detto all'inizio puntata nella nostra premessa e la settimana santa restate qui che abbiamo tante immagini da proporvi e non solo pochi istanti ben trovati in diretta pomeriggio sud vi invito ad interagire con noi come sempre il nostro contatto mail tra pochissima insomma impressione andiamo dagli ospiti quindi cambiamo argomento agli ospiti per parlare di settimana santa quanti quanta effluenza anche quest'anno devo dire nicola serafini della pia associazione valisa benvenuto buon pomeriggio grazie a ferdinando donghia il priore della confraternita del carmine purgatorio di mottola ben ritrovato e allora partiamo proprio da ferdinando perché abbiamo delle cose da farvi sapere che sono molto interessanti poi so che c'è un pubblico over 60 che ama tantissimo seguire le tradizioni ma ci sono tantissimi giovani ai quali bisogna assolutamente tramandarle e siamo qua per questo ferdinando esatto si dici bene francesco i giovani giovani sono una risorsa importante per le nostre confraternite giovani giovanissimi e noi contiamo all'interno del nostro sodalizio veramente tanti tanti giovani che soprattutto in questo periodo ci stanno sempre intorno ci stanno sempre accanto ed è importante perché vanno tramandati abbiamo il dovere di tramandare queste tradizioni tutto quello che ci è arrivato dai nostri avi e soprattutto poi in un periodo quale quello che stiamo vivendo in cui c'è una forte crisi di valori essere avere questi giovani intorno e quindi farli crescere insieme a noi quindi non solo dal punto di vista spirituale ma anche nella formazione all'interno del sodalizio credo che sia sia davvero importante a proposito di crescita di emozione partiamo così abbiamo un contributo che ci emoziona tanto sono partite già le immagini che possiamo commentare tranquillamente quindi resto su di te frenando sì queste sono le immagini della della processione dei misteri del sabato santo che attraversa il corso principale del paese corso vittorio emanuele e il troccolante e come potete vedere la processione durante nel momento in cui attraversa il corso principale lo attraversa praticamente tra due tra due ali di folla e la cosa bella e emozionante e che in quel momento non si sente davvero volare una mosca gli unici suoni che si sentono sono quello della troccola e le marce quelli della troccola e le musiche insomma delle delle bande che accompagnano la processione abbiamo il promo ce lo guardiamo insieme abbiamo altro da cui discutere per cui guardate Kingdom sp o o o o o o o o Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie 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 a tutti. e a tutti. e a tutti. e a tutti. e a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. e a tutti. Grazie 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 a tutti. a tutti. Grazie a tutti.